Tre allenamenti mentali per giovani calciatori, guida per genitori per sviluppare campioni dentro e fuori dal campo, perché ho deciso di scrivere questo ebook, un viaggio di cuore e passione cari lettori, amici del pallone e genitori di piccoli calciatori, vi siete mai chiesti perché ho deciso di scrivere questo ebook? Bene, la risposta è semplice quanto sorprendente, è tutta colpa di due grandi passioni che guidano la mia vita. La prima ragione è il mio amore immenso per i giovani e la loro crescita. Vedete, credo fermamente che guidare un ragazzo nel suo percorso sportivo sia un po' come essere un giardiniere, si piantano semi, si annaffia con dedizione e si osserva con orgoglio mentre sbocciano in splendidi calciatori e, soprattutto, in splendide persone. E non dimentichiamoci, cari genitori, che questo è un lavoro a quattro mani. Sì, perché per realizzare i sogni dei nostri ragazzi serve un vero team, allenatori e genitori uniti, come i supereroi dei fumetti, pronti a combattere insieme le sfide di ogni allenamento e partita. Ma c'è un'altra ragione, ancora più speciale, che mi ha spinto a scrivere queste pagine, il mio piccolo Edo, sette anni, occhi pieni di sogni e una passione per il pallone che contagia chiunque. Edo è stato la mia musa, il mio allenatore personale di vita. Ha cambiato il mio modo di vedere le cose, insegnandomi che non bisogna mai mollare, che ogni giorno è un'opportunità per crescere e che, a volte, anche un adulto ha tanto da imparare da un bambino. Con il suo sorriso e la sua energia, mi ha ricordato che la vera magia del calcio risiede nell'umanità, nel cuore, nell'amore per il gioco e per la crescita. Quindi, cari lettori, questo e-book è più di un semplice manuale di coaching, è una dichiarazione d'amore per il calcio, per la crescita dei nostri ragazzi e per quel piccolo grande tifoso che mi ha insegnato che, quando il cuore batte forte, nessun ostacolo è troppo alto da superare. Grazie Edo, grazie a tutti voi che accompagnate i vostri piccoli calciatori in questa meravigliosa avventura. E ora, pronti a calciare? Il fischio d'inizio è già risuonato. Indice introduzione, breve introduzione sull'importanza della mentalità nel calcio. Presentazione degli obiettivi dell'e-book, aiutare i giovani calciatori a entrare in flusso nelle attività quotidiane e in partita. Capitolo 1, visualizzazione del successo teoria e benefici della visualizzazione, spiegare come la visualizzazione possa migliorare le prestazioni sportive. Esercizi pratici di visualizzazione, guide passo passo su come eseguire esercizi di visualizzazione con i giovani atleti. Storie di successo, esempi di atleti che hanno usato la visualizzazione per migliorare le loro prestazioni. Capitolo 2, focalizzazione e concentrazione importanza della concentrazione nel calcio, discussione su come la concentrazione influenzi le prestazioni in campo. Tecniche per migliorare la concentrazione, esercizi e attività per sviluppare la focalizzazione mentale. Entrare in flusso nelle attività non calcistiche, suggerimenti su come applicare le tecniche di concentrazione nella vita quotidiana per aiutare i giovani calciatori a entrare in stato di flusso. Capitolo 3, gestione dello stress prepartita strategie di gestione dello stress, tecniche di respirazione e rilassamento. Dialogo interno positivo, come costruire e mantenere un atteggiamento mentale positivo. Preparazione alla partita, esercizi specifici da fare prima delle partite per entrare in flusso. Capitolo 4, i vampiri dell'energia, come sconfiggerli con un sorriso evitare il dramma in casa sconfiggere il vampiro con la positività risate e gol contro i vampiri sconfiggere il vampiro con la positività. Capitolo 5, investire nello sport, investire nei sogni, perché spendo così tanto in palloni e scarpe da calcio. Valori sani? Sì, grazie. Autonomia e gestione delle sconfitte amicizie e emozioni significative un viaggio insieme e conclusione, riepilogo dei concetti chiave. Incoraggiamento ai genitori per supportare i loro figli nel loro sviluppo calcistico e personale. Bonus, supporto emotivo efficace, consigli per i genitori su come supportare emotivamente i loro figli atleti. Stabilire obiettivi realistici, suggerimenti per aiutare i giovani calciatori a stabilire e raggiungere obiettivi nel calcio e nella vita nel mondo del calcio, spesso ci concentriamo sulle abilità tecniche e fisiche, dimenticando un elemento fondamentale per il successo di un giovane calciatore, la mentalità. La mentalità di un atleta non solo influenza le sue prestazioni in campo, ma anche la sua capacità di crescere, imparare e affrontare le sfide. Una mentalità positiva e resiliente può fare la differenza tra un talento in erba e un campione vero e proprio. Nel calcio giovanile, dove i giocatori sono ancora in fase di sviluppo sia fisico che emotivo, lavorare sulla mentalità diventa ancora più cruciale. I giovani calciatori devono imparare a gestire la pressione delle partite, le aspettative di allenatori e genitori, e le loro stesse ambizioni. Devono sviluppare una resilienza che li aiuti a superare le sconfitte e a trarre insegnamento da ogni esperienza, sia positiva che negativa. Questo e-book è stato creato pensando ai genitori che vogliono accompagnare i loro figli in questo percorso. Attraverso la presentazione di tecniche e strategie di allenamento mentale, miriamo a fornire gli strumenti per aiutare i giovani calciatori a sviluppare una mentalità vincente. Una mentalità che non solo li renda giocatori migliori, ma anche individui più forti e consapevoli. Da esercizi di visualizzazione a tecniche di concentrazione, dalla gestione dello stress prepartita all'importanza del dialogo interno positivo, questo e-book vi guiderà attraverso vari aspetti della psicologia sportiva applicata al calcio. L'obiettivo è quello di creare un ambiente di crescita sano e produttivo, in cui i giovani atleti possano non solo esprimere il loro talento, ma anche sviluppare le competenze per navigare con successo nel mondo dello sport e della vita. Capitolo 1 – Visualizzazione del successo Teoria e benefici della visualizzazione nel calcio Visualizzazione per la gestione dello stress Obiettivo – aiutare l'atleta a gestire la pressione e lo stress durante le partite Come fare? In un momento tranquillo, chiedi all'atleta di immaginare una situazione di gioco ad alta pressione, come tirare un rigore o giocare gli ultimi minuti di una partita decisiva. L'atleta dovrebbe visualizzare se stesso rimanendo calmo, concentrato e eseguendo con successo nonostante la pressione. L'esercizio aiuta a costruire una risposta mentale positiva alle situazioni stressanti. Incorporando regolarmente questi esercizi nella routine di allenamento, i giovani calciatori possono sviluppare una forte mentalità positiva e migliorare significativamente le loro prestazioni in campo. La chiave è la costanza e l'incoraggiamento, sia da parte degli allenatori che dei genitori, per rendere la visualizzazione una parte integrante del loro sviluppo calcistico. La visualizzazione, un'importante tecnica nel campo della psicologia sportiva, gioca un ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni dei giovani calciatori. Questa pratica implica l'uso dell'immaginazione per creare esperienze mentali che simulano la realtà. Quando un calciatore si visualizza mentre esegue azioni specifiche in campo con successo, sta in realtà rafforzando le stesse vie neurali usate durante l'esecuzione fisica di quelle azioni. Questa tecnica non è solo una teoria, è supportata da ricerche che dimostrano come la visualizzazione attivi le stesse aree del cervello utilizzate durante l'azione reale. Il cervello, infatti, non distingue nettamente tra una visualizzazione vivida e un'esperienza reale. Di conseguenza, la pratica regolare della visualizzazione può portare a miglioramenti significativi nella performance tecnica e tattica del giocatore. I benefici della visualizzazione nel calcio sono molteplici. Aiuta i giovani atleti a migliorare la concentrazione e la focalizzazione. I giocatori imparano a mantenere l'attenzione sulle azioni positive, riducendo l'ansia e la distrazione. Aumentare la fiducia. Visualizzare ripetutamente il successo può rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Migliorare la preparazione mentale. Aiuta i giocatori a prepararsi mentalmente per le partite, visualizzando scenari diversi e le loro possibili reazioni. Gestire la pressione. La visualizzazione di situazioni di pressione e di come gestirle riduce lo stress e migliora il rendimento sotto pressione. Ripresa dopo infortuni, può essere utilizzata come parte della riabilitazione, aiutando i giocatori a mantenere un legame mentale con le abilità sportive durante il periodo di inattività fisica. Incorporando la visualizzazione nella routine di allenamento, i genitori e gli allenatori possono aiutare i giovani calciatori a sbloccare il loro pieno potenziale, migliorando non solo le loro abilità sul campo ma anche la loro forza mentale e la loro resilienza. Capitolo 2. Focalizzazione e concentrazione Esempi di campioni che utilizzano la visualizzazione Uno degli esempi più emblematici di un atleta che ha utilizzato la visualizzazione per raggiungere vette straordinarie nel suo sport è il campione di nuoto Michael Phelps. Considerato il nuotatore più grande di tutti i tempi, Phelps ha utilizzato tecniche di visualizzazione come parte integrante del suo allenamento mentale. Michael Phelps e la visualizzazione Phelps, sotto la guida del suo allenatore Bob Bowman, ha perfezionato l'arte della visualizzazione per migliorare le sue prestazioni in piscina. Egli non solo si visualizzava vincere gare, ma andava ben oltre. Phelps si immaginava eseguire ogni singola bracciata, ogni virata, ogni dettaglio della sua gara, prevedendo perfino possibili imprevisti come gli occhialini che si riempiono d'acqua. Questo livello di dettaglio nella visualizzazione gli permetteva di sentirsi preparato per qualsiasi scenario, riducendo l'ansia e aumentando la sua fiducia. La routine di visualizzazione di Phelps iniziava la sera prima della gara e proseguiva fino a pochi momenti prima di tuffarsi in piscina. Questo processo lo aiutava a essere mentalmente presente in ogni momento della competizione, permettendogli di eseguire con precisione quasi automatica. Lezioni dalla visualizzazione di Phelps, il caso di Michael Phelps è una testimonianza potente dell'efficacia della visualizzazione. Le sue tecniche possono essere adattate e applicate non solo nel nuoto ma in qualsiasi sport, inclusi giovani calciatori che cercano di migliorare le loro prestazioni. Ecco alcune lezioni chiave. Dettaglio. La visualizzazione deve essere il più dettagliata possibile, coprendo ogni aspetto dell'esperienza sportiva. Preparazione agli imprevisti. Visualizzare non solo i successi ma anche le sfide potenziali prepara meglio l'atleta per ogni situazione. Routine. Integrare la visualizzazione come parte regolare della routine di allenamento può migliorare significativamente le prestazioni. Incoraggiare i giovani atleti a utilizzare la visualizzazione come ha fatto Phelps può aiutarli a raggiungere i loro obiettivi sportivi e a sviluppare una mentalità vincente, sia in campo che nella vita. Importanza della concentrazione nel calcio La concentrazione è una componente essenziale nel calcio, tanto quanto le abilità tecniche e fisiche. Un giovane calciatore con un'elevata capacità di concentrazione può mantenere il focus sul gioco, ignorando le distrazioni esterne e interne. Questo aspetto è cruciale in un ambiente di gioco dove la pressione è alta, e le decisioni devono essere prese rapidamente. La concentrazione aiuta l'atleta a rimanere connesso con il momento presente, permettendogli di reagire in modo efficace alle situazioni di gioco, anticipare le mosse degli avversari e coordinarsi meglio con i compagni di squadra. Inoltre, la concentrazione influisce sulla capacità del calciatore di mantenere la consistenza delle prestazioni durante l'intera partita. Un calciatore concentrato è in grado di applicare le strategie e i piani di gioco appresi durante l'allenamento, evitando errori causati da distrazioni o stress. Tecniche per migliorare la concentrazione Per sviluppare la concentrazione nei giovani calciatori, è possibile adottare diverse tecniche e attività, esercizi di respirazione, insegnare ai calciatori tecniche di respirazione profonda per aiutarli a rilassarsi e a focalizzare la mente. Praticare la respirazione profonda prima delle partite e durante gli allenamenti può migliorare la concentrazione. Meditazione e mindfulness Introdurre pratiche di meditazione o mindfulness per aiutare i giocatori a essere più presenti e consapevoli. Questi esercizi possono essere fatti sia individualmente che come parte dell'allenamento di squadra. Giochi e attività di focalizzazione Utilizzare giochi e attività che richiedono un'elevata concentrazione, come esercizi con il pallone che richiedono un controllo preciso, o attività che coinvolgono il ricordo di sequenze complesse. Routine pre-partita Creare una routine pre-partita che aiuti i giocatori a entrare in uno stato di concentrazione prima di scendere in campo. Questa routine può includere visualizzazione, esercizi di riscaldamento specifici e momenti di riflessione individuale. Entrare in flusso nelle attività non calcistiche il concetto di flusso, o essere nella zona, non è limitato solo al campo di calcio. I giovani calciatori possono trarre beneficio dall'apprendere come entrare in stato di flusso anche nelle attività quotidiane. Questo può aiutarli a sviluppare una maggiore concentrazione e a migliorare la loro capacità di gestire lo stress in varie situazioni. Ecco alcuni suggerimenti. Attività coinvolgenti. Incoraggiare i giocatori a impegnarsi in attività che richiedono un'elevata concentrazione, come puzzle, giochi di strategia o hobby che richiedono precisione e attenzione ai dettagli. Obiettivi quotidiani. Aiutare i giovani calciatori a stabilire piccoli obiettivi quotidiani, che possono essere semplici come completare i compiti scolastici con attenzione o dedicarsi completamente a una conversazione. Riflessione e diario. Promuovere la pratica di scrivere un diario per riflettere sulle proprie esperienze quotidiane, concentrandosi sugli aspetti che hanno richiesto una maggiore attenzione e su come sono stati gestiti. Tecniche di destress. Insegnare ai calciatori come rilassarsi e gestire lo stress nelle attività quotidiane, utilizzando tecniche di rilassamento e gestione del tempo, può contribuire a migliorare la loro capacità di concentrazione. Incorporare queste tecniche e pratiche nella vita di un giovane calciatore può aiutarlo non solo a migliorare le sue prestazioni sportive, ma anche a sviluppare abilità preziose per la gestione della vita quotidiana e scolastica. Capitolo 3. Gestione dello stress. Prepartita. Strategie di gestione dello stress. Gestire lo stress prima di una partita è cruciale per i giovani calciatori. L'ansia e la tensione possono influenzare negativamente la performance, rendendo fondamentali le tecniche di gestione dello stress. Una delle strategie più efficaci è la respirazione profonda. Questa tecnica semplice ma potente aiuta a calmare la mente e a ridurre la tensione fisica. Praticare la respirazione diaframmatica, con l'attenzione focalizzata sul respiro, permette ai giocatori di distogliere i pensieri dalle preoccupazioni e dal nervosismo. Un altro strumento utile è il rilassamento muscolare progressivo. Questa tecnica implica la contrazione e il rilassamento sequenziale dei diversi gruppi muscolari, aiutando a rilasciare la tensione accumulata. I giovani calciatori possono praticare questo esercizio da seduti o sdraiati, iniziando dai piedi e procedendo verso l'alto, fino a raggiungere i muscoli del viso. La meditazione e la mindfulness sono anche metodi efficaci per gestire lo stress. Queste pratiche aiutano a sviluppare la consapevolezza del momento presente e a ridurre i pensieri ansiosi sulle prestazioni future. Guidare i giocatori attraverso brevi sessioni di meditazione può aiutarli a sviluppare una calma interiore e a migliorare la loro concentrazione. Dialogo interno positivo Il dialogo interno positivo gioca un ruolo fondamentale nella gestione dello stress prepartita. I pensieri negativi possono facilmente invadere la mente di un giovane calciatore, soprattutto in momenti di alta pressione. Insegnare loro a riconoscere questi pensieri e a sostituirli con affermazioni positive può avere un impatto significativo sulla loro mentalità. I genitori e gli allenatori possono aiutare i giocatori a identificare le loro preoccupazioni e paure comuni e a formulare affermazioni positive per contrastarle. Per esempio, invece di pensare «non voglio sbagliare», possono riformulare il pensiero in «sono preparato e farò del mio meglio». Questo cambiamento di prospettiva aiuta a ridurre l'ansia e a costruire fiducia. Un'altra strategia è l'uso di mantra o slogan motivazionali. Questi brevi, potenti promemoria, possono essere ripetuti mentalmente prima e durante la partita per mantenere una mentalità positiva e focalizzata. Esempi di mantra potrebbero essere «sono forte», «sono capace» o «controllo il gioco». Preparazione alla partita, entrare in flusso o entrare in flusso prima di una partita è la chiave per massimizzare le prestazioni. Questo stato mentale, in cui un individuo è completamente immerso e concentrato nell'attività che sta svolgendo, è fondamentale per i giovani calciatori. Per raggiungere questo stato, è importante avere una routine prepartita ben strutturata. La routine dovrebbe iniziare con esercizi di riscaldamento fisico per preparare il corpo al gioco. Questi dovrebbero essere seguiti da esercizi di visualizzazione, dove i giocatori si immaginano in campo, giocando al meglio delle loro capacità. Includere anche esercizi di respirazione e rilassamento muscolare per ridurre l'ansia fisica e mentale. Un aspetto importante della preparazione è l'ascolto della musica motivazionale o la lettura di citazioni ispiratrici. Questo può aiutare a elevare l'umore e ad aumentare l'energia positiva prima di scendere in campo. Infine, incoraggiare i giocatori a stabilire obiettivi specifici per la partita. Questi obiettivi dovrebbero essere realistici e focalizzati sull'effort capitolo 4, i vampiri dell'energia, come sconfiggerli con un sorriso attenzione, vampiri in agguato. Cari genitori, nel magico mondo del calcio, ci imbattiamo spesso in creature misteriose e insidiose. No, non sto parlando di fantasmi o mostri sotto il letto. Sto parlando di... vampiri dell'energia. Sì, avete capito bene. Sono quelle persone, situazioni, o a volte anche noi stessi, che senza volerlo succhiano via l'entusiasmo, creando drammi e difficoltà anche dove non ci sarebbero. Evitare il dramma in casa prima regola per combattere questi vampiri, niente dramma a casa. Immaginate di essere in una tranquilla serata, a parlare del più e del meno, e improvvisamente. Pam! Un vampiro dell'energia si materializza, con il suo mantello di negatività e i suoi canini affilati di pessimismo. Oh no, hai visto che brutto tempo? E se piove durante la partita di sabato, o, quell'esercizio che hanno dato a Johnny è troppo difficile, non ce la farà mai? Cari genitori, è il momento di tirare fuori l'aio e combatterli. Come? Con sicurezza e calma. Invece di cadere nella trappola del negativismo, parlate di azioni e soluzioni. Se piove, sarà un'ottima occasione per imparare a giocare su un campo bagnato, o, Johnny, quell'esercizio è una sfida, ma ricorda tutte le volte che hai imparato qualcosa di nuovo. Ce la farei. Sconfiggere il vampiro con la positività vostro figlio sta affrontando un esercizio nuovo e difficile. Perfetto. È il momento di mostrargli come sconfiggere il suo vampiro interiore. Vedi quel dribbling? È il tuo vampiro. Ora mostragli chi comanda. Insegnategli che ogni sfida è un'opportunità, che ogni errore è un passo verso il successo. E voi, cari genitori, siate Ivan Helsing della positività. Armatevi di incoraggiamenti, di sorrisi e di battute spiritose. Quando vedete un vampiro dell'energia avvicinarsi, tirate fuori il vostro senso dell'umorismo e trasformatelo in un simpatico pipistrello di cartone. Risate e gol contro i vampiri in conclusione, ricordatevi che la casa dovrebbe essere un rifugio sicuro, un luogo dove i vampiri dell'energia non sono ammessi. Parlate di sport, di calcio, di vita con leggerezza e ottimismo. E se un vampiro si avvicina, combattetelo con una risata e un calcio simbolico nel sedere. Perché alla fine, cari genitori, l'arma più potente contro i vampiri dell'energia è una famiglia unita, che ride, che ama, e che supporta i propri piccoli calciatori con tutto il cuore. E con questa caccia ai vampiri, auguro a tutti voi e ai vostri piccoli campioni un'avventura calcistica piena di risate, di golle e di momenti indimenticabili. Ricordate, un sorriso è la luce del sole che spaventa ogni vampiro. Fare un passo indietro nel calcio, lezioni di un coach papà impacciato allora, amici genitori, vi racconto una storia buffa, c'era una volta un coach che pensava di sapere tutto sul calcio. E questo coach aveva un bambino, il piccolo Edo, che era il suo Ronaldo personale. Inizialmente, il coach faceva il tifo, dava consigli, urlava istruzioni. Insomma, un vero papà ultras. Ma poi ha scoperto una cosa incredibile, tacere ed oro. Sì, perché allenare il proprio figlio si è rivelato più complicato del previsto. Mio figlio si allenava con altri mister, e io? Imparavo a mordere la lingua. Ma ecco la magia, quando ho smesso di essere coach e sono diventato solo papà, ho visto il mio Edo trasformarsi. Meno pressione, più risate. Meno tattiche, più gol. E quindi, cari genitori, vi dico, lasciate perdere il ruolo di allenatore improvvisato. Il calcio è un gioco, e i nostri figli vogliono solo divertirsi. Invece di chiedere, hai vinto, o, quanti gol, provate con, ti sei divertito, o, hai fatto nuovi dribbling pazzeschi, e ricordatevi, il miglior gol che possiamo segnare è vedere i nostri piccoli campioni sorridere. E se proprio non riuscite a stare zitti, fate come me, mordetevi la lingua e sorridete. Ecco dieci comportamenti che i genitori dovrebbero evitare per non demoralizzare la passione calcistica dei loro figli, eccessiva pressione sui risultati, incoraggiare il figlio a vincere a tutti i costi può aumentare l'ansia e diminuire il piacere di giocare. Criticare costantemente, critiche continue sulle prestazioni in campo possono erodere la fiducia e la motivazione del giovane calciatore. Confronti con altri giocatori, confrontare il proprio figlio con altri giocatori può creare sentimenti di inadeguatezza e gelosia. Intromettersi nelle decisioni dell'allenatore, mettere in discussione pubblicamente le scelte dell'allenatore può minare l'autorità di quest'ultimo e creare confusione nel bambino. Ignorare il divertimento del gioco, concentrarsi esclusivamente su aspetti competitivi e trascurare il divertimento e la gioia del gioco può ridurre l'amore per lo sport Imporre aspettative irragionevoli, aspettative troppo alte rispetto alle capacità e all'età del bambino possono generare frustrazione e delusione. Ridurre il calcio a una transazione, trattare il calcio come un mezzo per ottenere borse di studio, premi o riconoscimenti può compromettere la passione genuina per lo sport Sminuire il loro impegno, non riconoscere o sminuire l'impegno e lo sforzo del bambino, indipendentemente dai risultati, può demotivarlo. Focalizzarsi solo sul calcio, non permettere al bambino di esplorare altri interessi o hobby può causare stanchezza e un senso di soffocamento. Creare un ambiente stressante intorno alle partite, manifestare nervosismo o tensione prima o durante le partite può trasferire questi sentimenti al bambino, Influenzando negativamente la sua performance e il suo atteggiamento verso il calcio. Ricordare che ogni bambino è unico e che il calcio dovrebbe essere un'esperienza positiva e formativa è fondamentale per sostenere la loro passione e crescita sportiva. Ecco 10 comportamenti positivi che i genitori dovrebbero adottare per sostenere la passione calcistica dei loro figli, incoraggiare il divertimento, sottolineare il divertimento e la gioia di giocare a calcio, Ricordando che lo sport dovrebbe essere prima di tutto un'esperienza piacevole. Sostenere senza pressione, incoraggiare il bambino a fare del suo meglio, senza esercitare pressione eccessiva per i risultati. Essere presenti, partecipare agli eventi e alle partite del bambino, mostrando supporto e interesse per il loro impegno e progresso. Lodare lo sforzo, non solo il successo, riconoscere e lodare lo sforzo, l'impegno e il miglioramento, non solo i risultati o le vittorie. Fornire un ambiente positivo, creare un ambiente domestico che promuova la fiducia, il supporto e l'ottimismo. Aiutare a stabilire obiettivi realistici, assisterli nel definire obiettivi raggiungibili e appropriati per il loro livello di sviluppo. Insegnare il rispetto per allenatori e compagni di squadra, educarli al rispetto verso allenatori, compagni di squadra, avversari e arbitri. Incoraggiare un buon equilibrio di vita, assicurarsi che il bambino mantenga un equilibrio sano tra sport, studio e altri interessi. Ascoltare e comunicare, essere disponibili ad ascoltare le loro preoccupazioni, le loro gioie e le loro frustrazioni legate allo sport. Promuovere l'autonomia, insegnare ai bambini a prendersi cura della propria attrezzatura sportiva, a prepararsi per gli allenamenti e le partite, e a essere responsabili delle loro azioni in campo e fuori. Adottando questi comportamenti, i genitori possono aiutare i loro figli a godere appieno della loro esperienza nel calcio, incoraggiando al contempo la crescita personale e lo sviluppo di abilità di vita importanti. Capitolo 5. Investire nello sport, investire nei sogni, perché spendo così tanto in palloni e scarpe da calcio? Ah, la domanda da un milione di dollari. Perché, in effetti, investiamo tanto tempo e denaro nello sport dei nostri figli? No, non stiamo cercando di allevare il nuovo Messi o la futura Alex Morgan. La risposta è molto più semplice e profonda allo stesso tempo, stiamo investendo nei valori, nelle emozioni, nell'apprendimento. Valori sani? Sì, grazie. Lo sport, cari genitori, è come una scuola di vita con un campo da gioco al posto delle aule. E che lezioni imparano i nostri figli? L'impegno, per esempio. Quel sudore che cola dopo un allenamento intenso non è solo acqua salata, ma è la dolce essenza dell'impegno e della dedizione. E poi il sacrificio, svegliarsi presto il sabato mattina per la partita, quando i loro amici stanno ancora dormendo, è una medaglia al valore che si appende all'anima. Autonomia e gestione delle sconfitte a, l'autonomia. Vedere il proprio figlio prepararsi da solo la borsa dello sport è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per la sua indipendenza. E le sconfitte? Le delusioni? Le lacrime dopo un match perso? Sono le perle di saggezza che insegneranno loro che nella vita non si vince sempre, ma ciò che conta è rialzarsi e continuare a giocare amicizie e emozioni significative. Osservare le amicizie che nascono e si rafforzano sul campo di calcio è come guardare un documentario sulla natura umana. Legami forgiati nella fatica, nel sudore e nelle risate, amicizie che, si spera, dureranno una vita. E le emozioni? Oh, le emozioni. Vederli correre felici dopo un gol o consolarsi a vicenda dopo una sconfitta è lo spettacolo più commovente a cui un genitore possa assistere. Un viaggio insieme quindi, cari genitori, ricordate, ogni volta che acquistate un paio di scarpe da calcio, non state solo comprando del cuoio e delle stringhe, ma state investendo nel viaggio di crescita di vostro figlio. State costruendo ricordi, insegnando lezioni di vita e condividendo emozioni che andranno ben oltre i confini del campo da gioco. E alla fine, quando li vedrete correre felici, indipendenti, resilienti e circondati da amici veri, capirete che quello che avete speso non è stato un costo, ma il miglior investimento che potevate fare. E se questo significa qualche mattina in più a bordo campo con un caffè in mano e il cuore gonfio di orgoglio? Beh, che ci vuole? È un piccolo prezzo da pagare per un tesoro così grande. E con questa riflessione, cari amanti del pallone e della vita, vi lascio a godervi ogni partita, ogni allenamento, ogni risata e ogni lacrima con i vostri piccoli campioni. Perché ricordate, nel grande gioco della vita, l'amore e il supporto sono i veri gol da segnare. Le mamme e il calcio, una squadra vincente. Mamme, allenatrici del cuore nel calcio dei piccoli campioni cari lettori, concludiamo il nostro viaggio nell'affascinante mondo del calcio giovanile dedicando un capitolo speciale a quelle supereroine spesso in ombra ma sempre presenti, le mamme. Ebbene sì, anche se il calcio sembra essere il regno dei papà, le mamme hanno un ruolo fondamentale nell'ecosistema calcistico dei loro piccoli campioni. Prima di tutto, non è necessario essere degli esperti di fuorigioco o conoscere a memoria la formazione del 1982 per essere delle super tifose. L'importante è essere presenti, sia fisicamente che emotivamente. Una mamma che accompagna il figlio agli allenamenti, che lo sostiene durante le partite è già una campionessa. Ma non finisce qui. Oltre alla presenza, le mamme possono portare quella stessa intensità e passione che spesso si attribuisce ai papà. E no, non sto parlando di imparare a urlare «dai dai» o «forza» dalla tribuna, ma di esprimere davanti al figlio l'importanza del calcio nella vita. E questo non significa solo parlare di vittorie e trofei, ma anche di sconfitte, di impegno, di fair play e di crescita personale. Una cosa che le mamme fanno meglio di chiunque altro? Essere un punto di forza nell'ecosistema emotivo del figlio. In questo sport, come nella vita, non serve essere esperti per mostrare supporto, comprensione e passione. Con un semplice approccio fatto di sorriso, energia e comprensione, i bambini si sentiranno già vincitori, indipendentemente dal risultato del match. E allora, cari genitori, unite le forze! Papà, continua a condividere la tua passione e le tue conoscenze tecniche. Mamma, continua a essere il cuore pulsante dell'entusiasmo e del sostegno emotivo. Insieme, formate la squadra perfetta per il vostro piccolo calciatore. Ricordate, ogni partita vinta sul campo del sostegno e dell'amore è un trofeo che il vostro bambino porterà per sempre nel cuore. In conclusione, cari genitori, il calcio è un gioco, una passione, un'avventura. Godetevi ogni momento con il vostro piccolo campione, perché questi ricordi saranno più preziosi di qualsiasi medaglia. E ricordate sempre, nel calcio come nella vita, giocare insieme è sempre più divertente. E così chiudiamo il nostro e-book, con un sorriso e un incoraggiamento a tutti i genitori. Calcio, amore e un pizzico di follia, ecco la ricetta per crescere piccoli grandi campioni. I mentori della vita Un tributo a Mario il sussurro di un eroe del cuore Grazie, nonno Mario e ora, cari lettori, mentre ci avviciniamo alla fine di questo viaggio tra pagine di passione e palloni, voglio condividere con voi un segreto speciale, il vero motore dietro queste parole, un mentore, un eroe, un ispiratore. Il mio caro nonno Mario Ah, nonno Mario Un uomo dalle mille sfaccettature, tenace come un leone, deciso come un capitano di nave, e passionale come un tifoso in curva. Era un uomo di sport, un insegnante di ginnastica che sognava di avere un atleta in famiglia. E anche se quel sogno non si è realizzato nelle modalità che forse lui immaginava, mi ha lasciato un'eredità ancora più grande, la passione per lo sport, la determinazione a perseguire i miei sogni e la convinzione che, a qualsiasi età, tutto sia possibile. Nonno Mario non ha mai smesso di amare la vita, insegnandomi che ogni giorno è una nuova partita da giocare con coraggio e amore. Quando mi parlava, le sue parole erano come le tattiche di un grande allenatore, semplici ma profonde, dirette ma ispiratrici. Mi ha insegnato che i veri campioni non sono solo quelli che vincono medaglie, ma coloro che vivono con valori forti e un cuore grande. E così, mentre scrivo queste righe, sento la sua voce che risuona nel mio cuore, un eco che mi guida e mi incoraggia. Caro nonno Mario, grazie per essere stato il mio mentore, il mio allenatore della vita. E con questo, miei cari amici del pallone, si conclude il nostro viaggio insieme. Grazie per avermi accompagnato, grazie per aver condiviso con me questa avventura. E, ovviamente, un grazie speciale va a te, nonno Mario. La tua voce, le tue lezioni, il tuo spirito vivono in ogni pagina di questo e-book e in ogni passo che faccio. Ora, andate! C'è un campo là fuori che aspetta di essere calcato, c'è una palla che aspetta di essere calciata, ci sono sogni che aspettano di essere realizzati. E ricordatevi, in campo come nella vita, il gioco più bello è quello giocato con il cuore. E così, con un sorriso e un pizzico di nostalgia, chiudiamo questo capitolo, ma non il gioco. Perché, come ben sapeva nonno Mario, la partita della vita non finisce mai. Buon gioco a tutti! Note sull'autore il coach Matteo Barberi Matteo Barberi è un coach sportivo professionista specializzato nel calcio giovanile, con una notevole esperienza e una passione per lo sviluppo di giovani talenti. La sua carriera è caratterizzata da un approccio olistico al coaching, che non solo si concentra sul miglioramento delle abilità tecniche e fisiche dei giovani calciatori, ma anche sul loro sviluppo mentale e emotivo. Con una solida formazione nel coaching e una profonda comprensione delle dinamiche del calcio giovanile, Matteo è noto per la sua capacità di connettersi con i giovani atleti, motivandoli e ispirandoli a raggiungere il loro pieno potenziale. Il suo metodo di allenamento enfatizza l'importanza della disciplina, del lavoro di squadra e del rispetto, fondamentali per la crescita sia in campo che nella vita. Matteo ha lavorato con diverse squadre giovanili, portando la sua expertise e la sua filosofia di coaching in vari contesti sportivi. La sua metodologia include l'utilizzo di tecniche avanzate di coaching, come la visualizzazione e la mindfulness, per aiutare i giocatori a migliorare non solo le loro prestazioni sportive, ma anche la loro resilienza e la loro autostima. Oltre al suo lavoro sul campo, Matteo Barberi è anche attivo nel fornire formazione e supporto ai genitori dei giovani atleti, sottolineando l'importanza del loro ruolo nel percorso sportivo e personale dei figli. La sua visione del calcio giovanile come strumento di crescita complessiva rende Matteo un coach distintivo e rispettato nel suo campo. Per conoscere il suo programma di coaching scrivete direttamente sulla mia casella personale peo.barberichiocciolagmail.com e vi risponderò con molto piacere con info e consigli. Il tuo feedback è essenziale per me, non solo per comprendere l'impatto della guida sulla vostra esperienza, ma anche per migliorare e arricchire le future edizioni. Ora è il momento di condividere la tua opinione. Grazie mille per la tua collaborazione e per il supporto continuo. Insieme, possiamo continuare a migliorare e offrire il meglio ai nostri giovani calciatori. Da non perdere bonus esclusivo spero abbiate trovato la mia guida, tre allenamenti mentali per giovani calciatori, una fonte di ispirazione e di conoscenza. Ora, voglio offrirvi l'opportunità di trasformare quei concetti in un percorso personalizzato per voi e i vostri giovani atleti. Il coaching online è un potente strumento per chi desidera crescere e migliorare ottimizzando tempi e risorse. Io stesso mi affido a Coach Online per trovare chiarezza, definire obiettivi e prendere decisioni importanti. E ora, vi offro la stessa opportunità. Che cosa desiderate migliorare nella vostra vita o nella vita sportiva dei vostri figli? Sia che si tratti di lavoro, relazioni, autostima, salute o altro, il coaching online può essere la chiave per raggiungere i vostri obiettivi. Per fissare un incontro online con me e iniziare il vostro percorso di coaching, vi invito a visitare il seguente Unabbraccio Coach Matteo.